Grazie a tutti, grazie a te. A Manuela, come si fa a me? Manuela, vieni, vieni. Non mi devi venire sopra. Antonio, tutti i barri, grazie, vai. Vi salutiamo così. Allora, certamente, grazie. Ancettate a tutti, grazie. 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 て, grazie. Grazie. Rina하기. Rinauten. Grazie. Grazie. E'こちら. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.